Proviamo a partire e vediamo un po' come viene. Ma un sogno blu a testa in giù, io ti sognai. Un insetto sul mio letto si avvicina a me, lui conosce bene la mia allucinazione. Oh ne, in una bolla c'è un extraterrestre che mi porta via con sé. La meno sinta a te e di più a voi. Ok, grazie. Una coca e due birre. La chitarra alla fine, doveva già essere finito lì. Dovevo entrare con... Ok. Un po' di feedback. Un po' di feedback. Chiudiamo? Ecco. Quasi sbagliato, a me che proprio l'ha preso in ritardo, no? Si perché sennò diventa un riff e... No, no. Gli incastri del destino... In un respiro... Solo volume e quantità di distorsione. Il problema è che lì a un certo punto era troppo lungo, effettivamente. Niente, viene bene il lavoro. Grazie. Grazie.